Wow, hai una bella vista sulla camera di Bonnie da qui. Cacchio, come fai a concentrarti? Come sarebbe? Lois è più carina di Bonnie. Oh, ho capito, è meno carina ma è diversa, ok, questo ci può stare, sì, ok. Insomma, sono sceso dalla macchina perché mi scappava, avevo bevuto e non sapevo che lì c'era un parco giochi. Ecco perché quella signora deve controllare quando gioco con te. Entrambe le mani sul libro, grazie. È mio figlio, andiamo. E che cacchio. Grazie, Maya. Allora, la prossima storia è quella di Cappuccetto Rosso. Cappuccetto Rosso stava scegliendo il vestito con cui attraversare il bosco. Se soltanto avessi le palle sarei dolcevitino bianco. E per palle intendo le bocce. Tesoro, non dimenticare il cesto di vivande per la nonna. Questa cosa è troppo pesante. Perché devi metterci una busta del ghiaccio? No, 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 scusa, questa qui che cos'è? È birra. La nonna organizza forse un pigiama party con dei palestrati surfisti? E mi raccomando, non ti allontanare mai dal sentiero. Oh, la super raccomandazione da mamma dell'anno. Lo sai vero che la nonna sta a 92 chilometri da qui? Sì? E che mandi tua figlia incontro alla morte? Tra la la, tra la la, quanto è bello stare qua. Gay nessuno ti chiamerà. Se tu fossi mio figlio ti ucciderei. Davvero? Perché ho sentito che tuo figlio è una pigna. Prima di sparare assicurati di avere l'arma carica, bello. Oh, ehi, tu sei il lupo, giusto? Sì, e non dimenticare, grosso e cattivo. Beh, io sto andando da mia nonna, ma prima devo fare un salto nel folto del bosco per evacuare. Il suo bagno è proprio accanto alla sala da pranzo, quindi o la faccio adesso oppure fra tre giorni. Chi è che bussa? Cappuccetto rosso, la tua nipotina! Come faccio a sapere che sei tu? Oh, andiamo, un'imitazione perfetta. Apri la porta, ho portato la torta di fragole e la vaselina! E cosa? Eh, scusa, volevo dire la vanillina. Brava la mia bambina! Oh, cielo! Entra pure! Chi diavolo sei tu? Ma sono la tua nonnina, è ovvio! Ok, sì, togliamoci il pensiero. Cielo, ma che occhi grandi che hai, nonnina! Oh, 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 è per vederti meglio, tesorino! Cielo, ma che bocca... No, 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 senti, scusa, no, 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 non posso, non posso farlo, dai, non sono un idiota! Mia nonna è una nonna umana, cioè, va dai, come fai a crederci? Ok, e va bene, sì, sono io, il lupo. Dobbiamo continuare questa messa in scena, è un insulto! Non so di che cosa ti lamenti, sono io che vengo brutalmente vivisezzonato dal boscaiolo. Quale boscaiolo? Cioè, non so se quello è il nostro eroe o un maniaco che va di casa in casa a squartare la gente. Ah, sì, sì, l'ha fatto di nuovo. Credo che dovremmo... che dovremmo chiamare qualcuno.